Dead Lewis è un anziano proprietario di un negozio di ferramenta, abitante di una cittadina immaginaria, Holt nel Colorado, sta per morire, ha sei mesi di vita circa. E' diciamo il personaggio, non dico principale perché insomma sono tanti i personaggi di questo romanzo, però forse quello più toccante per me, insieme alla moglie, che è fantastica, Mary, all'apparenza burbero, all'apparenza scontroso, ma con moltissima umanità sotto. E devo dire che tutta questa agonia che si racconta, lo scrittore la racconta in maniera molto, molto suggestiva, in modi molto realistici, ma apparentemente realistici, perché sotto c'è un'emotività ed una forza davvero straordinaria. Sembra una specie di benedizione, una benedizione a doppio taglio, disse Lyle. Dead lo guardò. Eh sì, un sacco di volte le benedizioni non sono andate per il verso giusto. C'è uno sguardo sulla gente anziana, uno sguardo molto delicato, però al tempo stesso molto brusco. I modi sono quelli di una sceneggiatura cinematografica fatta e compiuta. Lo scrittore ci mette proprio una telecamera in testa, quindi è una sceneggiatura magnifica, intoccabile. E quindi la lettura ne beneficia, perché essendo scorta di tanta immaginazione, lui poi ti guida a vedere quello che stai leggendo. Tante volte magari quando cala un po' l'ispirazione o c'è un po' di stanchezza, ci si immagina il più possibile chi potrebbe ascoltarlo. C'è una persona in una stanza da sola che sta cucendo, ad esempio. Cerco anche di capire dove la sto annoiando, dove invece lei può alzare appunto la testa dal lago e dire «Aspetta, qui forse riguarda anche un po' me». Grazie a tutti.